Le giornate nazionali di saldatura, non edizione, si confermano l'evento italiano di maggiore prestigio a livello tecnico-scientifico del settore della fabbricazione di prodotti saldati. La manifestazione, organizzata dall'Istituto Italiano della Saldatura al Porto Antico di Genova nei giorni 30 e 31 maggio 2017, ha attirato quasi 1.600 partecipanti. Il dato ha confermato una diffusa volontà di rispondere con un atteggiamento proattivo contro la non facile situazione economica, ricercando le opportunità di approfondimento attraverso la competenza maturata con passione dal gruppo IS in anni di studio, assistenza tecnica e in continui aggiornamenti, con l'obiettivo di fornire a tecnici e professionisti una piattaforma per presentare i risultati di ricerca nella vasta area di scienza e ingegneria applicati alla saldatura. Alla conferenza e workshop sono intervenuti come relatori speaker di prestigio rappresentanti di importanti istituzioni, associazioni e centri di ricerca, tra cui per citarne solo alcuni IENI, CIMOLAI, ABB, FRONIUS INTERNATIONAL, FROAI LIQUID WELDING, ZANARDI FONDERIE, LUCCHINI RS, FOSTER PAIN BÖHLER WELDING, TRENITALIA, GE, OIL AND GAS, NOVO OPINIONE, UNIVERSITÀ DI GENOVA e molti altri. In parallelo all'EGNS9 si è svolta in contemporanea la terza giornata del microjoining dal tema Learn More About PCB. Il convegno, che si colloca tra i maggiori eventi del comparto, ha coinvolto tecnici ed esperti del settore PCB con l'obiettivo di portare gli utenti a contatto con alcuni dei principali produttori nazionali del circuito stampato e i loro fornitori diretti, offrendo una panoramica della tecnologia produttiva attuale e futura di questi componenti. Nell'ambito della cerimonia inaugurale è stata presentata la fase della premiazione, tra cui una breve menzione per il premio ad honorem EWE Long Live Achievement, istituito dalla Federazione Europea della Saldatura, un riconoscimento che i singoli istituti della saldatura nazionali hanno facoltà di conferire ad esperti distintisi nel campo della saldatura per capacità ed edizione nell'arco della propria carriera, pur non avendo conseguito alcuna qualificazione professionale attraverso i tradizionali percorsi formativi. Non per ultima, la premiazione dei vincitori delle Olimpiadi nazionali della saldatura quarta edizione, la manifestazione a partecipazione gratuita organizzata dal gruppo IES che valorizza e premia le professionalità esistenti in Italia nel settore. I primi classificati delle quattro categorie in gara si sono giudicati i premi in palio offerti dal gruppo IES, trofeo e assegno del valore di 1.500 euro, e i premi a cura degli sponsor ufficiali. Per l'Indegas Italia, una saldatrice portatile EVM serie Pico 160 adatta per saldatura ad elettrodo rivestito e TIG Liftark. Per Lincoln Electric Italia, una maschera auto-oscurante multiprocesso serie Viking 4C. La manifestazione ha fornito, dalle interessanti e coinvolgenti sessioni orali e momenti informali, il forum ideale per potenziali partner e occasione di networking sia per i visitatori che per gli sponsor tecnici sostenitori dell'evento che hanno partecipato con una postazione espositiva. Insomma, due giorni molto intensi che hanno calamitato l'attenzione dei partecipanti. Positivo anche il giudizio delle società che hanno sponsorizzato l'avvenimento, tanto che la maggior parte di esse hanno già confermato il loro supporto per l'edizione del 2019.